Col fiato sospeso è così che si transita lungo il viadotto di via Ovidio parecchio trafficato di collegamento tra diverse zone cittadine, in particolare tra il centro e il quartiere della Perriera. L'asfalto sembra sprofondare ogni giorno di più. Si attende da tempo che vengano effettuati lavori di messa in sicurezza, ma ormai da più di un anno che le transenne restringono considerevolmente la carreggiata, costringendo le autovetture ad un difficoltoso senso unico alternato. Stando a quanto aveva dichiarato al nostro telegiornale lo scorso dicembre l'assessore Locicero, il viadotto è stabile, ma ha subito l'abbassamento delle sponde laterali di ingresso. Non sono del tutto chiare le cause del problema, che potrebbe dipendere da una sorta di difetto di realizzazione oppure ancora da una persistente perdita idrica in zona, fatto sta che il tempo passa e i cittadini continuano a lamentare un grave disagio e pericolo. Rimanendo in zona, sia in via Ovidio sia nella vicina via Verona, è stato segnalato anche un altro problema, quello relativo alla pubblica illuminazione. Entrambe le strade la sera risultano al buio, ormai da tempo, da un paio di settimane. Residenti e titolari di attività commerciali presenti lungo le due arterie pare abbiano segnalato il guasto al gestore del servizio, senza avere alcun riscontro. Riportiamo dunque anche noi il disservizio, nella speranza che si possa intervenire il prima possibile. Passiamo infine alle perdite idriche, immancabili all'interno della nostra consueta rubrica. C'è stato inoltrato l'ennesimo video dalla contrada Isabella, in particolare da Via dei Papiri, a testimoniare come il problema segnalato alla gestione commissariale del servizio idrico integrato, così come la nostra emittente non sia stato affatto risolto. L'acqua continua a sgorgare da un foro nell'asfalto, proprio al centro della Via dei Papiri, nei pressi della chiesetta di San Luigi, e a disperdersi senza aggiungere ai serbatoi delle vicine abitazioni. I residenti non sanno più a chi rivolgersi. Un problema, quello delle perdite idriche in città, che il gestore idrico fa davvero fatica a risolvere.